La zona mare si prepara all'estate fra novità, fra conferme di novità recenti come quella della pedonalizzazione di Viale Trieste dello scorso anno che viene confermata. Qui in particolare ci troviamo in piazzale d'annunzio che è uno dei punti, vediamo, sottoposta ad asfaltature, che prevede una delle modifiche principali di questa stagione. Sì, diciamo che anche questa è una sperimentazione, questa parte di Viale è solitamente un pochino più spenta rispetto all'altro, il Viale Trieste. Noi stiamo dando l'incarico di progettazione di piazzale d'annunzio già per la prossima stagione estiva, un piazzale che si allinea in qualche modo con Piazzale della Libertà. Nel frattempo ci siamo portati avanti un pochino con il lavoro facendo che cosa? Cambiando il tracciato della ciclabile, quindi andrà di rito, non farà più questa semicurva sul lato di Via Nazario Sauro per dare la possibilità ai locali di mettere fuori i tavolini e di occupare un suolo pubblico. La stessa linea che abbiamo ottenuto del resto su Viale Trieste dove partendo dal Covid e poi prendendo anche al balso la palla del parcheggio di Villa Marina abbiamo sperimentato la pedonalizzazione del Viale. In sostanza il nostro obiettivo era quello di dare spazio ai locali del Viale e provare ad abbellire la passeggiata con nuove luci, con sedute e con fioriere. Questo sarà un intervento ovviamente non definitivo perché stiamo cercando di aggredire il Recovery Fund, di recuperare risorse importanti da investire nella città e uno degli interventi che vogliamo prevedere è la riqualificazione di Viale Trieste ovviamente. È una riqualificazione che ha un costo stimato attorno ai 3 milioni e 3 milioni e mezzo, quindi noi vogliamo pensare che nella soluzione di quest'anno sia una soluzione che ci permetta poi di recuperare gli arredi che abbiamo acquistato e che posizioneremo già alla fine di maggio e primi di giugno e che ci dà una prospettiva nuova del Viale, un Viale che dovrà essere carrabile in alcuni mesi dell'anno e pedonale nei mesi estivi. Oggettivamente penso che la pedonalizzazione sia andata bene l'anno scorso e soprattutto nel pomeriggio e la sera, qualche problema in più al mattino tant'è che abbiamo aumentato di un'ora l'accesso per i carichi e scarichi per le attività commerciali. Altre due novità saranno ai margini tra zona mare e centro storico, via Castelfidardo e il vecchio Palasport o nuovo Auditorium, come lo vogliamo chiamare, che saranno due facce che cambieranno della nostra città. Su via Castelfidardo sperimentiamo anche quest'anno una ZTL più spinta con APU, con pedonalizzazione, è una strada d'accesso al centro storico importante che due o tre anni fa abbiamo già riqualificato. Il Palazzetto dello Sport ovviamente è uno di quegli interventi a cui questa giunta tiene maggiormente. I lavori finalmente stanno andando spediti, la ditta che sta facendo i lavori, la GM di Fano sta lavorando bene, come potete vedere adesso stanno montando, hanno iniziato i lavori per montare il tetto, si sta lavorando per avere almeno un'agibilità parziale già per l'evento della ginnastica che è previsto a Pesero dal 20 settembre al 10 ottobre e per avere la possibilità di ospitare o almeno un concerto di chiusura del ROF per giugno 2021.